Non sono bastate le rassicurazioni del sindaco di Chieti Umberto Di Primio che ha annunciato di aver già inoltrato una richiesta di liquidità immediata a cassa depositi e prestiti per saldare i debiti con le partecipate del comune. I dipendenti di Formula Ambiente, i sindacati FPCGL e FITCISL hanno infatti annunciato per domattina un presidio permanente che a partire dalle ore 10 di domani si stabilirà in corso marrucino dinanzi alla sede del municipio con l'obiettivo di avere certezze concrete sul futuro lavorativo dei dipendenti della partecipata. Questa mattina intanto si sono incontrati i vertici dell'azienda e del comune come ha spiegato l'assessore agli affari legali del comune di Chieti Maria Rita Salute. Da parte del comune noi possiamo dire che i lavoratori devono stare tranquilli. Il comune sta facendo tutto quanto è possibile per garantire il pagamento degli stipendi. Per quanto riguarda Formula Ambiente c'è un tavolo aperto, qui partecipa sia la società che gli uffici preposti in personale del dirigente e anche l'ufficio legale. A Formula Ambiente saranno pagati 300 mila euro entro qualche giorno, appena saranno accreditati al comune dal fondo di solidarietà presso il ministero. E dentro il mese di marzo saranno versati ulteriori 2 milioni e 700 mila euro. Quindi sinceramente non comprendiamo perché ci sia tutto questo clamore intorno a questa vicenda. E da parte nostra, come le ripeto, stiamo facendo tutto il possibile. Che difficoltà ci siano, questo è un fatto noto, non l'abbiamo mai negato. Ma per il resto cerchiamo di tenere fede a quelli che sono gli impegni dell'amministrazione. Per quanto riguarda lo stato di agitazione che sarebbe stato proclamato anche dai dipendenti di Chieti Solidale e di Teat e Servizi, posso dire che il comune ha pagato già circa 130 mila euro a Chieti Solidale, proprio per consentire il pagamento degli stipendi, e una cifra di circa 80 mila euro è già stata pagata anche a Teat e Servizi. Quindi penso che ci sia stato proprio uno spirito emulativo, strumentale, che non ha ragion d'essere.